I podcast di LCN Sport Buona la seconda per il Lecco che tra le mura amiche del rigamonticeppi batte la pergolettese grazie a una prestazione solida e anche di sofferenza quando è servito tirare fuori questa capacità capacità che tornerà utile tutto l'anno ovviamente per una squadra che ancora si deve formare ancora di più tornerà utile subito anche a Vicenza giusto fra poche ore di fatto perché martedì poi i blu celesti all'ora 21 saranno in scena nella bellissima cornice del Romeo Menti dove sicuramente tirerà un certo tipo di aria pesante che piace anche ai tanti giocatori esperti di questa squadra che quel campo l'hanno calcato anche in categorie ancora più nobili rispetto alla Serie C ma stando alla stretta attualità sicuramente la prestazione che abbiamo visto a rigamonticeppi è confortante confortante perché come abbiamo detto e come ha anche giustamente puntualizzato mister Tachinardi ecco una squadra nuova, nuovissima che deve trovare i propri leader maximi all'interno dello spogliatoio sicuramente alcuni sono ben riconoscibili uno è evidentemente Umberto Eusepi che dell'attacco e leader l'ha dimostrato già Verona appena arrivato subito dentro a fare a cazzotti nel senso buono del termine e a segnare il gol del 2-2 che ha regalato un punto proprio quando sembrava ormai impossibile poterlo raggiungere col pergo si è visto che Eusepi gioca molto di foga non è ancora brillantissimo è giusto che sia così ovviamente però 90 minuti in campo anche per la presenza scenica che sa dare il contributo a livello di personalità e anche comunque la capacità di non aver paura di andare a far sentire il proprio peso anche all'arbitro, alla terna arbitrale dopo ad esempio il fallo di mano clamoroso di Arini che non ha portato al calcio di rigore che sarebbe stato sacro santo Eusepi ha provato a far leva insomma anche col guardialine che avendolo visto da veramente pochi passi era tutt'altro che sicuro della decisione presa dalla sua collega però tant'è l'occasione è andata persa e poi Elecco fortunatamente dopo pochi minuti è riuscito a superare la barricata o comunque il muro alzato dal pergo con quella bellissima stoccata di giudici dal limite dell'aria un capolavoro di balistica e di capacità di coordinarsi in veramente poco tempo e scagliare questo sinistro incrociare nei confronti dell'ex compagno Rubi seppur per poche settimane che non ha potuto fare altro che tuffarsi ma senza nessun tipo di possibilità di arrivare su quel pallone molto potente a mezza altezza che è andato a morire vicino al palo fortunatamente sulla sua faccia interna Elecco poi da quel momento ha dovuto un po' gestire i tempi contro Bergo che sicuramente sa stare bene in campo si conosce da tanti anni e questo si è visto anche per larghi tratti del primo tempo Bergo che avrebbe anche non rubato niente se quella zuccata in tuffo di Mattia Iori talento puro che abbiamo visto spesso e volentieri a Riga Monticeppi negli anni della Serie D ma l'abbiamo visto anche di recente con la maglia del Nibionno Giono mettersi veramente in grandissima mostra se quella zuccata fosse finita in fondo al sacco e non sulla traversa Bergo non avrebbe sicuramente rubato nulla avrebbe comunque legittimato con un punto una prestazione sicuramente di livello Elecco si è giocato un jolly o quanto meno si è giocato quanto aveva accumulato con la fortuna a pochi minuti prima sul rigore non fischiato da Rini ha capitalizzato e poi nel finale l'ha giocato inventata dal nulla da Magni ha portato al raddoppio di Job Zambataro che poi ha rivelato a tutti di aver avuto un lutto in settimana e onestamente per come ha giocato chapeau perché è riuscito sicuramente a tirar fuori qualcosa di veramente importante dal punto di vista mentale rimanendo sempre dentro la partita parliamo sempre di un ragazzo di 24 anni che poteva subire il contro il compo psicologico di un lutto familiare bello anche aver visto sollevare la maglietta da giudici da capitano quindi doppio effetto dopo il suo gol con scritto il nome di Riccardo Melgrati che è stato colpito dalla morte della mamma proprio all'inizio di questa settimana infatti non ha presenziato alla presentazione di giovedì sera e non ha potuto evidentemente essere della partita nemmeno oggi quindi un gruppo che si sta formando che si vede remare comunque verso un obiettivo comune che oggi è quello di una salvezza tranquilla anche se il patron dopo il match ha fatto capire che lui ha qualcosa di più guarda sempre poi chiaro bisogna fare i conti con la realtà oggi il Lecco rimane una buona squadra di serie C che ha tanto potenziale ancora da mostrare al di là di una condizione fisica che non è quella ottimale come ha detto Tachinardi siamo al 70% ma di una condizione complessiva di squadra che non può a nostro giudizio essere ancora superiore al 50% a Vicenza sicuramente si può pensare di fare la propria gara senza l'ansia del risultato avendo già 4 punti in cassaforte ma con tutta la necessità e la volontà di mettere in mostra il meglio di se stessi del resto per una volta tanto l'obbligo di vincere ce l'ha qualcun altro è un altro Grazie a tutti.